Questo è il nostro spazio, lo spazio che abbiamo occupato per 76 giorni, vivendo dentro questo teatro. La somma delle superfici dei nostri camerini è inferiore alla superficie di questo palco. Perché noi abbiamo passato i nostri 76 giorni chiusi qua dentro, diviso i nostri metri cubi, sempre sotto stretta sorveglianza delle severe telecamere, dello streaming, che hanno ripreso le prove di uno spettacolo, questo spettacolo, che sta debuttando stasera. Questo è un progetto politico. L'attore coincide con il personaggio e la realtà si mescola con la finzione.